Queste anatre invece sono anatre mandaine, hanno un piumaggio davvero fantastico e sono una delle prade preferite del palco pellegrino, sono uccelli di taglia media, gli uccelli di taglia media sono le prade preferite di questo apace. Qui invece abbiamo i fenicotteri rosa, si alimentano, mangio così colorato grazie al cibo che mangiano.